Oggi si torna in sella. Questo è dove la bimba è stata a riposare per questi quattro mesi. Adesso andiamo a rimettere in pista, ne lo dico oggi mi vedrete piangere. Allora adesso ricollego la batteria. Sta ferma quattro mesi questa. Vediamo che riparta al primo colpo. Questa piccola modichina che ho fatto io, ma l'ho fatta in tanti perché si hanno rotto le scatole con la chiave da 10, da 13, da 10 mi pare che c'era. Sporchina? Ok, allora, com'era? Così. Mi metterò laggiù dal cavalletto devo riconfiare la gomma anteriore perché questa si sgolfia sempre, quindi starà totalmente a zero. E il mio compressore sta ancora in Sicilia, nell'altra moto dopo l'incidente, quindi si fa come gli antichi. Infatti sta a zero. Andiamo per la dietro. Questo è il meccanismo tecnologico che ho usato per tenere anche la ruota anteriore sollevata, che magari normalmente quando si sta sul cavalletto centrale non è neanche indispensabile, però siccome poi questa si sgonfia, non volevo ovalizzarla, tra l'altro le gomme sono nuovissime, ci avranno 500 km forse neanche. è una tornata alla tua posizione naturale. non fa girare la sala, o tutta non parte. non fa girare la sala, o tutta non parte. Ah, però tiralo su e stacco il polso. Sì. Vediamo che faccia male. Ingrassata? Andiamo a pose e parte. E' andata l'acqua nella centradina e vabbè succede. Allora, faccio escire un po'. Non ricorderò ma si fa. Aiai. Impressione. Aiai. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bello, bello. Allora, guarda, questo è il regalo. No, adesso dentro c'è un tagliere. Adesso lo andiamo qua. Spettacolare, bellissimo. E dai. Eh sì, ma io lo sapevo. Guarda, lo sapevo. No, c'avevo proprio... Non lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo. Nell'aria che tu che erai... E hai fatto bene anche a farlo con lei, cazzo. Dai. Ma come hai fatto a buttare la pececo? C'è stato centrato alla sua. Perché è per questo che sono emozionato. Eh, però... C'è anche per questo. Be careful. Che spettacolo, grande. Ma io ho detto, guarda, questo è Emilio, perché starà avvenendo quella cosa. Ma tra l'altro mi hai detto po' giocatini, ho messo po' giocatini, no? E' una lecmanali nostrana questa. Sì, praticamente. Che spettacolo. Beh, penso che oggi è un bel giorno, vai. Dai, da qui? Dai.